E siamo fiduciosi anche nel lavoro che la provincia di Pescara ha fatto in questi mesi per quanto attiene la verifica dei ponti e dei viadotti, un tema che chiaramente in questi giorni è tornato di estrema attualità. Noi per fortuna abbiamo avuto l'ambizione e evidentemente anche la visione anticipata rispetto ai fatti accaduti a Genova e cioè di verificare le criticità eventuali sui viadotti che sono di nostra proprietà. Ne abbiamo più di 100 di ponti, su 63 siamo intervenuti, abbiamo già incominciato ad avere le prime relazioni e confido che per fine agosto avrò tutte le relazioni afferenti allo studio affidato alle quattro strutture di ingegneria incaricate perché a quel punto sarò in grado anche di sviluppare esattamente qual è la cifra necessaria per manutenere e per mettere ulteriormente in sicurezza questi manufatti. Cifra che noi chiederemo al Ministro Toninelli il quale ci chiede la relazione puntuale, noi accompagneremo quella relazione anche con le cifre necessarie per mettere in sicurezza i manufatti. Noi abbiamo chiuso il ponte di Castiglione a Casa Aurea che è un ponte strategico, se lo immaginate, anche prossimamente importante come area in quanto c'è la santificazione del Beato Nunzo. Quindi potete immaginare che i pullman e il traffico di fedeli saranno incentrati in quella zona e purtroppo il ponte non può essere fruibile. L'altro ponte che attualmente è senso unico alternato è quello di Villa Rea Cepagatti e altro ponte che è stato verificato da questo studio di ingegneria e che grazie a questo studio, che altrimenti non avremmo mai saputo, si è ritenuto appunto di dover procedere alla sospensione almeno per una corsia per quanto riguarda il traffico. Abbiamo anche una criticità che è quella del ponte di Salle che sapete essere l'unico realizzato dall'ingegner Morandi e che attualmente dovrà subire una radiografia per una parte del costone dove poggia una parte del ponte perché si vogliono verificare a fondo gli attacchi per capire appunto se sono resistenti così come lo sono stati all'inizio quando il ponte è stato costruito.